S.A.R.A. F.E.L.L.A. Infatti, le sue foto, e i suoi post su Instagram, vengono sempre commentati da numerosissimi utenti che, tuttavia, non sempre si dimostrano cordiali e gentili nei suoi confronti. . All'accusa la X.T.R.O.N.I.S.T.A. ha allora risposto negando ogni tipo di ritocco, specificando inoltre di non aver mai fatto nulla alle sue labbra. Bella, ma senza le labbra rifatte lo eri di più aveva scritto la fan di I.S.A.R.A. F.E.L.A.Zotto l'ultima foto pubblicata dalle X.T.R.O.N.I.S.T.A.S.U. Instagram. . 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